È importante soprattutto come coesione sociale, la coesione sociale di un territorio molto vasto, di oltre 60 comuni, di 5 province, di 2 regioni, quindi ha un impatto molto importante e il ruolo di coordinamento dell'autorità di vaccino che vuole far conoscere questo territorio, le proprie peculiarità e legare i territori, unire i sindaci e le amministrazioni, ha un ruolo quindi, dicevo, molto importante perché la presentazione della candidatura avviene attraverso il ruolo e il lavoro dell'autorità di vaccino. Questo è un lavoro fondamentale perché consente a un territorio di lavorare insieme, di farsi conoscere e di fare una rete, soprattutto futura, di sostenibilità ambientale, di risorse, di risorse naturali che possono essere messe dentro questo progetto e consentire una miglior qualità di vita di questo territorio.